Ciao a tutti, è primavera, si ha voglia di passare magari nel fine settimana se è possibile una bella giornata all'aperto ed è il momento di fare delle piccole gite fuori porta. Oggi andiamo insieme a fare una bella passeggiata, arriviamo in Umbria e andiamo a vedere un piccolo castello, un borgo medievale piccolissimo ma veramente un piccolo gioiello, si chiama il Castello di Campello ed è veramente bellissimo. Il Castello di Campello sorge su una collina, una collina che è tutta ricoperta di ulivi perché questo è un territorio proprio votato all'olio extravergine di oliva ed è un posto davvero incantato, magico, bellissimo perché adesso ve lo farò scoprire in questa piccola passeggiata. È un castello medievale perfettamente conservato, se vogliamo sicuramente recuperato e reso di nuovo bello come era un tempo, che davvero a qualsiasi età tu lo vieni a visitare non puoi che ritrovarti affascinato un po' come un bambino perché è il classico castello che si entra, ecco qui adesso entriamo dalla porta principale che credo sia l'unica porta di questo castello che è ellittico, avete visto, mi sono fermata un attimo a distanza con la macchina, l'ho ripreso perché è davvero bellissimo, sta sulla sommità di questa collina, sopra la pianura spoletina e si vede questo castello che a volte è anche un po' isolato, un po' coperto da un po' di foschia ed ha un'atmosfera davvero magica, bellissima, davvero ti ritrovi in questo borghetto all'interno del castello con queste casette così ben conservate, così belle, che sono tutte di pietra, anche il pavimento vedete è tutta pietra, è un po' tutto lo stesso colore ma molto molto affascinante, molto bello, ti riporta indietro nel tempo, ci sono queste stradine, poi tutti i piccolissimi particolari dei forni funzionanti, delle fontanelle fuori dalle case, insomma è qualcosa di molto molto affascinante, molto bello, è una passeggiata bellissima da fare quando si viene in Umbria, è un posto particolare, un posto sicuramente come ce ne sono tantissimi in Italia che non sono poi così conosciuti ma meriterebbero assolutamente un viaggio apposta per venirli a visitare, ecco io come posso, mi piace tanto fare queste domeniche fuori casa, così a passare la giornata all'aria aperta, magari a scoprire anche qualche piccolo ristorantino, qualche vino buono della zona, dei piatti tipici e fare passeggiate in posti così belli. Avete visto in 5-6 minuti si girano completamente tutte le mura, si passeggia tra le stradine di questo castello, ecco io lo trovo rilassante, bellissimo e poi è qualcosa che magari agli occhi dei bambini è qualcosa di un'esperienza indimenticabile perché sei proprio dentro un castello medievale e poi c'è un silenzio, una pace, ecco c'è mio marito e poi ci sono le mura che circondano tutto il castello, ci sono veramente qua e là dei piccoli cortiletti, le casse sono curate perfettamente, davvero molto molto bello, tanto di cappello a chi riesce a tenere così bene questi luoghi così particolari, perché spesso quando si visitano dei borghi medievali poi ci si ritrova in un posto affascinante ma che sono spesso dei cumuli di macerie e tu devi un po' immaginare invece qui hai davanti agli occhi solo bellezza, bello bello veramente, una passeggiata molto piacevole, poi qui siamo davvero in Umbria, quindi di borghetti, di passeggiate alla scoperta di cose piacevoli e belle, ce ne sono davvero tantissime, abbiamo finito il giro, siamo ritornati nella chiesa che è la parte centrale del castello, poi avete visto le mura e tutte le casette che sono un po' addossate alle mura, un po' internamente, comunque diciamo sì, dieci minuti fai il giro completo del borgo e poi sicuramente lo rifarai altre volte, altre due come minimo per scoprire altri piccoli particolari, oggi ho fatto questo video così particolare, una passeggiata insieme a voi perché arriva la primavera, perché queste giornate all'aria aperta ci fanno bene, ci rigenerano, ci rimettono un attimo in sintonia, ci fanno dimenticare l'inverno ed è bellissimo ecco poter trascorrere una giornata, anche se vedete oggi è un pochino nuvolosa, in posti così belli. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di farne altri su questo genere e come sempre vi dico che vi do un abbraccione fortissimo, arrivederci al prossimo video, adesso vedete qui c'è un'immancabile panchina sul panorama, sulla pianura sottostante, siamo in alto, siamo sulla sommità della collina, io adesso mi siedo qui 5 minuti, mi rilasso, mi godo questa bellezza e arrivederci al prossimo video, un abbraccione fortissimo. Grazie a tutti.